Sai cosa succede su Boomerang? Che succede amico? Che succede amico? Che succede amico? Succede che il divertimento di sempre con tutti i tuoi personaggi preferiti arriva su Boomerang! Ma è un Boomerang tutto nuovo! E allora fai partire il divertimento! Su Boomerang! Fabio, sei pronto? Sbrigati che mamma ci aspetta a pranzo! Hai cambiato la lettiera alla gatta? Non hai comprato l'acqua! E questo nodo alla cravatta? Non mi piace proprio! Metti quella che ti ho regalato io, è molto più adatta! Ci sono bontà un po' pasticciate, grasse, pesanti, e poi c'è la bontà dei pavesini! Una bontà delicata, croccante, che si scioglie in bocca, perché i pavesini sono unici! Uova, farina, zucchero, senza grassi aggiunti! Per questo è sempre l'ora dei pavesini! Un piacere sano e leggero! Per gente piena di vitalità! E' l'acqua l'ete! Che piace a me! Che piace a te! Ma che cos'è? E' l'acqua l'ete! E' l'acqua l'ete! Avete presente quei tramezzini che mangiamo all'ora di pranzo? Quelli tristi! Ma che cos'è? E' l'acqua l'ete! Che piace a me! Che piace a te! Ma che cos'è? E' l'acqua l'ete! Acqua l'ete! Bevi bene! Vivi meglio!